Ciao a tutti amici di Youtube, bentornati al vostro Gimbo, siamo tornati come sempre su Pokémon Rubino siamo davanti alla palestra di Ceneride per battere il capo palestra, Adriano, ovvero amante dei Pokémon d'acqua quindi il nostro protagonista oggi sarà Manetrick, che non si chiama Manectrick ma si chiama Manetrick perché l'ho sentito nominare così, quindi da oggi in poi lo chiameremo Manetrick davanti alla palestra c'è Lino che ci ringrazierà sicuramente per aver sconfitto Groudon Groudon, quello là lo continuerò a chiamarlo così fai del tuo meglio, se ne va e ci lascia libera la porta della palestra quindi noi entriamo, qui c'è una scala, però io mi ricordo qua che cosa bisogna fare bisogna camminare su tutte le piattaforme di ghiaccio per appunto sbloccare la scala che ci porterà sopra al piano superiore eccoci qua, siamo ancora qui e qua come cazzo si faceva? allora, mi viene spontaneo partire di qua ok, va benissimo poi facciamo così sì, così, 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 così così e sono un pezzo di merda! perché non ho sbloccato tutte quante le altre? madonna santa, madonna qua c'è un po' di gente da battere c'è un po' di gente da battere ci conviene sconfiggere un po' di gente, eh devo dire la verità ci conviene sconfiggere un po' di gente velocizzo un pochino, così almeno facciamo un po' veloce fulmine, fuori dalle palle, no? fulmine, dai, andiamo ok, molto bene molto bene, molto bene hai avuto la meglio? sì, va bene andiamo avanti questo qua chi c'ha questo qua? azzurillo fuori dalle palle ok purtroppo 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 il nostro manetrick è un pochino basso di livello manetrick no, si chiama, vabbè io ho detto che lo chiamerò manetrick ma in realtà non è vero perché l'ho sempre chiamato manetrick quindi lo chiamo manetrick double edge sdoppiatore contraccolpo io avevo attacco rapido, vero? però non utilizzerò attacco rapido perché questo qua con la signorina bacca qua era stata bacca arancia, sicuro si è rigenerato quindi io utilizzo ancora fulmine e lo butto giù va bene livello 38 abbiamo avuto una media contro sta scema anche questa qua ci vuole battere vediamo un attimino wild bear questo è bello cicciotto da buttare giù però noi abbiamo un manetrick che fa un brutto colpo incredibile e quindi niente non voglio cambiare pokemon no no ancora fuori dalle palle un altro tipo ok molto bene andiamo avanti oh hai avuto la mele contro su usano la pulpa ok ciao 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 ti voglio bene anch'io dimmi che cosa vuoi fuori dai coglioni ok carvagna fuori dalle palle entra wild bear fuori dalle palle pure wild bear ok alla grande poi sciarpezo fuori dalle palle ok sta cercando di imparare morso ma non può conoscere più di 4 mosse allora fulmine onda shock scintilla e e e e e e morso glielo dobbiamo insegnare però solo che noi abbiamo flash morso però morso io non glielo insegno a manetrick perché più in là imparerà a sgranocchio quindi eeeh no no non glielo insegno no ha sbagliato eeeh no si ok andiamo avanti allora qua c'è ancora minchia quanta gente che c'è da battere e io qua velocizzo perché voglio farvi vedere la la lotta contro adriano eh di solito non velocizzo però siccome qua gli allenatori sono tanti e adriano credo che sia una lotta piuttosto dura perché appunto è l'ultimo è l'ultimo capopalestra di eeeh pokemon rubino e zaffero comunque l'ultimo capopalestra della eeeh terza generazione non ha i 2pp per questa mossa quindi utilizziamo scintilla adesso e lui muore lo stesso eeeh e quindi velocizzo questa parte qua love disc onda shock facciamo così dimmi un bacio sono confuso è così confuso da colpirsi da solo poi lo uccido ok molto bene andiamo avanti allora eeeh facciamo una cosina veloce veloce ovvero facciamo questa cosa qua eeeh andiamo al centro pokemon perché eeeh fulmine non lo posso più utilizzare ok ah va benissimo e adesso ritorniamo in in palestra ritorniamo in palestra e facciamo spero la eeeh il dungeon giusto quindi il primo è una cazzata ok il secondo era una cazzata anche questo perché eeeh il percorso è uno solo ok di qua invece bisogna fare una cosa del genere ovvero così puoi passare per di qua ho paura di sbagliare perché che c'è la sensibilità dell'analogico che non è una delle migliori facciamo tutto il percorso ok siamo arrivati ad ariana ad adriana ad adriano ma è il trick eccolo qua ok dai andiamo forza forza un po' ok vediamo chi lancia per primo ultimo allora love disk questo qua va giù che è un piacere perché è un pokemon di merda in tutti i sensi quindi fulmine fuori dalle balle love disk senza senza neanche pensarci esattamente se ne va giù proprio così solo che se il primo pokemon è a livello 40 gli altri a che cazzo di livello saranno wish cash e questo è un grande problema wish cash a meno che non rischiamo e tiriamo fuori graudon però mi sa che wish cash ha levitazione wish cash ha levitazione e quindi non subisce attacchi di tipo terra non abbiamo un pokemon di tipo eeeh ah no wish cash è acqua terra quindi minchia ha utilizzato il terremoto e mi ha tirato giù un electric pensavo fosse acqua elettrico grandissimo errore grandissimo errore acqua terra eeeh lui va avanti di terremoto molto probabilmente se grudon ha solo a raggio dovrebbe avere solo a raggio no c'ha gran fisico terremoto lacerazione fuoco bomba mamma mia che schifo eeeh surf bora sub fanghiglia allora io provo a entrare con eeeh provo a entrare con aria anzi no entro con suello entro con suello perché se subisco danno lo utilizzo rimonta e riesco a buttarlo giù facilmente quindi aeroassalto adesso lui dovrebbe minchia aumenta la difesa speciale di questo qua quindi dobbiamo andare per forza di ariama perché lui è fisico ariama è fisico eeeh va bene e noi continuiamo a utilizzare aeroassalto sperando magari ecco esatto in un brutto colpo così almeno facciamo subito lui adesso spara l'idropulsar speriamo che non ci tiri giù rimonta dovremmo togliergli un bel po' un cazzo li abbiamo tolto va bene adesso speriamo che resiste ok rimonta però è una stronzata fare la rimonta adesso perché esattamente perché lui adesso entra dentro cioè non entra dentro utilizza la ricarica totale o l'iperpozione noi adesso entriamo con ariama e facciamo 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 perché non c'ho bruciapelo perché non c'ho bruciapelo vabbè utilizziamo breccia utilizziamo breccia pipipipipipà allora il danno c'è vita al tiro dovrebbe togliere ancora di più no breccia è la mossa più forte che abbiamo pioggia danza che non è male anche se io potrei entrare con swampert perché surf è efficace in quanto super efficace sul tipo terra e adesso surf potrebbe buttarlo giù facilmente perché siamo sotto la pioggia quindi io ci provo io tiro dentro swampert adesso tiro dentro swampert e gli sparo un surf sperando che adesso idropulsar non mi confonda però ok molto bene adesso surf sotto la pioggia dovrebbe fargli male male vediamo cosa succede un cazzo non gli fa un cazzo non gli fa un cazzo ma questo qua come facciamo a tirarlo giù come facciamo a tirare giù questo wish cash con bora proviamo con bora swampert fallisce naturalmente idropulsar adesso utilizziamo surf e dovrebbe andare giù perché se avesse voluto utilizzare la iperpozione la ricarica l'avrebbe già fatto esatto wish cash va giù molto bene adesso teniamo in vita teniamo dentro swampert e ci ricarichiamo manetrick manetrick come cazzo lo chiamo boh vabbè zaino allora qua dovrebbe esserci il revitalizzante revitalizz 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 non abbiamo revitalizz non abbiamo revitalizz eccoli qua i revitalizz manetrick ok adesso lui spara una botta incredibile con idropulsar ma noi non ce ne prega un cazzo perché adesso che culo ci va benissimo ci va benissimo dobbiamo sacrificare un po' non ne va bene ok corpo scontro swampert va giù molto bene salute entra manetrick ok e adesso andiamo di fulmine andiamo di fulmine e la foca monaca dovrebbe morire anche se dovrebbe essere molto bulky come pokemon non lo sapremo mai perché ha fatto il brutto colpo ok va bene va bene ok va bene seeking questo qua dovrebbe essere un attimino più tranquillo dovrebbe essere un attimino più tranquillo come pokemon da buttare giù però a livello 42 adesso vediamo un attimo se lo tiriamo giù o meno lo tiriamo giù ok signori si sta rivelando più facile di quello che sembrava mailotic mailotic allora minchia che bello mailotic allora io non vado di fulmine vado di onda shock che è leggermente più debole perché voglio portare mailotic non a vita rossa ma a vita gialla in modo oh la madonna così poco toglie e geloraggio invece quanto toglie ok potremmo farcela se noi utilizziamo tre onde shock possiamo evitare l'utilizzo dell'iper pozione dovremmo evitare l'utilizzo dell'iperpezione questo qua usa ripresa mamma mia va bene vabbè io continuo a fare un da shock a me non mi frega niente lui può fare ripresa quanto vuole fino a quando non arrivo il brutto colpo e lo butto giù ecco scusami adesso potrei tentare sono tentato molto tentato di fare fulmine se non mi uccide uno madonna uno di vita fulmine dovrebbe andare giù cazzo se non vai giù col fulmine a metà vita sei veramente un bastardo olea la grande allora mamma mia ancora un po' arrivo al 41 va benissimo così ok va bene andiamo avanti medaglia pioggia fantastico erremo riceviamo la medaglia pioggia da a mosto cazzo da Adriano ci fa molto piacere con questa medaglia tutti i pokemon ti obbediranno ok posso utilizzare l'MN cascata fuori dalla lotta e ottengo l'MT03 che non so che cos'è idropulsar idropulsar 60-100 ha una buona probabilità di confondere il pokemon avversario mossa di tipo acqua naturalmente non lo so non lo so se insegnerò idropulsar a swampert non credo perché penso di farlo no swampert dovrebbe essere già pronto più o meno allora noi adesso facciamo riposare i nostri pokemon e ho visto che abbiamo delle squame cuore vedo magari di sistemare quelli che sono i set dei nostri pokemon in modo tale che siamo già pronti per andare a battere la lega no però è una cosa inutile da fare adesso perché noi adesso dobbiamo entrare in via vittoria adesso dobbiamo entrare in via vittoria e ci servono le MN quindi mando un attimo a fanculo Grodon che è quello con livello più alto e riprendo il nostro amico zigzagoon il tutto fare che ci ha aiutato a battere la palestra vinti ha raccolto una super pozione che ci ha aiutato gli ha aiutato a battere la palestra la penultima palestra quindi allora facciamo così ok guardiamo subito pokemon davanti io metterei suello perché è quello più basso a livello di livello poi c'è ariama manetrick vibrava swampert ok ok va bene allora quindi vediamo di uscire da cineride e andiamo verso i ridopoli andiamo verso i ridopoli utilizzeremo cascata cascata l'ho già insegnato a qualcuno mi sa di sì surf sub no non l'ha insegnata a nessuno quindi adesso insegno cascata a swampert che è una mossa super potente cascata cascata è veramente forte come come mossa 80-100 e può far tentennare giusto carica il nemico con la forza di chi risale una cascata no mi sa che il tentennamento l'hanno aggiunto nelle generazioni a venire non nella terza quindi noi adesso insegniamo cascata al nostro amico swampert vediamo di lasciarli uno slot per insegnarli terremoto e allora bora sub si poi li toglieremo sub quindi adesso non c'è problema li togliamo fanghiglia senza pensarci e poi naturalmente li toglieremo sub e nella slot di sub li insegneremo terremoto a swampert quindi detto questo cazzo mi sono dimenticato il repellente la puttana merda magikarp sei molto utile come pokemon ciao allora zaino dove è il repellente dove è il repellente super rep super rep repellente max pozione max repel max ok apposta alla gang allora quindi vediamo di entrare qua dentro il mare profondo qui vuoi usare sub no voglio uccidere tua madre allora ce ne andiamo di qua qua fuori possiamo utilizzare sub ancora una volta ritorniamo su e a questo punto dobbiamo andare tutto a destra tutto tutto a destra fino a quando non becchiamo uno spiraglio di vita da qualche parte ok dobbiamo andare verso di qua mi sa che stiamo andando giusti speriamo di non incontrare pokemon cioè pokemon allenatori d'acqua perchè non c'ho voglia adesso di batterli dove cazzo devo andare dove cazzo devo andare allora mi sa che devo andarmene di qua finito l'effetto del repellente nelle generazioni successive ti chiede vuoi usarne un altro qua invece no devi semplicemente romperti il cazzo a selezionare il prossimo repellente quindi andiamo ancora di qua ma dove cazzo eridopoli allora aspetta che apriamo la mappa allora dobbiamo aprire la mappa giusto la mappa la mappa la mappa è nel pokénov la mappa è nel pokénov mappa earn dobbiamo scendere un attimino dobbiamo scendere un attimino va bene ok va bene ok allora scendiamo giù di qua dove cazzo devo andare allora rientriamo di qua chissà se entro i 20 minuti riusciamo a trovare i ridopoli allora dobbiamo cercare bene scendiamo 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 allora sì è di qua dovrebbe essere di qua mi ricordo tutte queste pozze d'acqua così finito l'effetto del repellente speriamo che con l'ultimo speriamo con l'ultimo repellente di riuscire ad arrivare alla fine ad i ridopoli allora repellente max ancora una volta va bene no madonna sante è girato proprio dove ero io i ridopoli ancora molto molto lontano stairo suello fuori dalle palle dai via dalle palle ok molto bene ok andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti di qua è giusto è giusto eccola qua i ridopoli fantastico allora possiamo utilizzare cascata qua siamo davanti alla cascata c'è un'enorme cascata vuoi usare cascata certo signori l'appuntamento di oggi finisce qua settimana che cazzo dico settimana prossima la prossima volta ci vediamo ci vediamo ci vediamo davanti alla via vittoria perché esatto ragazzi siamo arrivati alla via vittoria siamo arrivati alla via vittoria e dopo la via vittoria lo sapete meglio di me c'è la lega pokemon e dopo di che dopo la lega pokemon andremo finalmente a catturare il nostro amico raiquaza quindi vedo cosa vuole questo qua niente vabbè mi piaceva nei commenti come vi ho detto sto facendo ci vediamo alla prossima puntata ciao